Siamo al seminario sugli NPL di Stop Secret, abbiamo con noi il dottor Stefano Scopigli di Yard Cam e le chiediamo chi è Yard? Yard è un gruppo che ha capacità tecnico-immobiliari, è un full service provider e fornisce servizi di carattere di analisi documentale, valutazione, due diligence e analisi specifica sugli NPL su tutto il mondo immobiliare. Quanto si deve lavorare per individuare le garanzie? Purtroppo si deve lavorare molto perché i dati che normalmente in una due diligence sui non performing vengono forniti alle banche sono veramente molto molto scarsi e soprattutto sono forniti in maniera disaggregata e spesso anche con delle imprecisioni, quindi questo comporta un lavoro importante in fase di data room, cioè quando si vanno ad analizzare i documenti. Si devono poi elaborare internamente e capire se ci sono gli errori durante l'intervento, infatti ho parlato proprio di un esempio che se c'è una riga che ti dice albergo di 7.000 metri quadri, se tu non vai ad analizzare come ci è capitato ci sono 4.000 metri quadri di albergo e 3.000 di area esterna, quindi loro li aggregano spesso questi dati. Quindi è necessario sezionarli, andare a capire l'immobile effettivamente come è costituito, come è conformato, questo serve soprattutto in una fase di pricing, immaginate che differenza ci può essere quando tu hai dei metri quadri che non coincidono, sia in più che in meno, quindi questo è un errore che può andare sia a svantaggio dell'investitore quando compera, oppure a svantaggio della banca perché magari gli viene prezzato meno il valore del bene. Grazie a tutti!